La statistica comunale come servizio pubblico è sempre più importante, quali sono le principali novità? Io direi che stiamo tentando di passare da una fase in cui la statistica era a funzione di governo delegata, quindi nel testo unico è prevista con una funzione dello Stato delegata al Sindaco, una statistica che vorremmo fosse a supporto del governo locale, con un ribaltamento dei termini che corrisponde a un ruolo diverso rispetto alla propria comunità, al comune da parte dell'ufficio di statistica, come produttore di informazioni per decidere, per controllare e per conoscere la realtà delle comunità locali.